bella a tutti ragazzi benvenuti diciamo in questa terza parte dello step up legends call of earth dove nel precedente video abbiamo pulato kidbull sorprendentemente con la trunks e vegeta animation che ci ha dato il pg banner dove io non mi aspettavo niente ma dato che abbiamo comunque trovato il pg banner so che dovrebbero arrivare cool e revo e golden freezer evo diciamo freezer evo che si trasforma in golden freezer però voglio allo stesso provarci e buttare questi mille cronocrystals però prima facciamola scontata solamente sul banner oltre space time 16 che mi manca quel gohan che non riesco a trovare nessun modo andiamo zero pod schippiamo hero bene detto questo possiamo fare il terzo step dove penso che ci dà un ticket non credo 5 ticket no sì 5 ticket ci dà quindi poi abbiamo la sparking garantita in teoria sì perché ho tipo un ticket si poi abbiamo la sparking garantita allora dai ragazzi go ciao Ahah! 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 Oh no! Oh no! Ahah! 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 Ma... ...quire! ...Eh... ...Áh! ... ...H Ar Nagu... ... pow... fake out e incredibilmente mi esce vegeta super saint god blu wow e quindi mi dà praticamente cioè mi va a 5 stelle ok quindi facciamo il ticket garantito vediamo cosa ci esce l'amore o l'amore ancora vegeta super saian blu ah ok ok dai buono buono e non potevo aspettarmi goku o gothen e forse gohan poteva servirmi si poteva servirmi tanto gohan goku ni mi ha dato ancora vegeta beh dai comunque mi ha dato due cioè alla fine ha amato lo sparking in quella da mille e va assolutamente bene così va assolutamente bene così basta mettete mi piacciono mi piace fatemi sapere la vostra dei commenti bella ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video di dragon legends